buona giornata amici da massimo foghetti oggi è sabato 18 dicembre 2021 iniziamo la giornata con un pensiero a santo di turno vediamo chi è vediamo dalla grafica ed è san graziano di tour san graziano di tour visse nel terzo secolo ovviamente dopo cristo fu inviato ad evangelizzare le gaglie fondò la diocesi di tour città in cui visse per 50 anni non senza difficoltà però per l'opposizione di coloro che ancora credevano nei dei pagani sepolto nelle catacombe dopo la sua morte il suo corpo fu trasferito nella prima chiesa che fu edificata a tour sul luogo dove poi sorse una bellissima cattedrale dopo l'anno mille che a lui fu dedicata fu un santo molto molto venerato e lo è ancora oggi e dopo queste brevi notizie su san graziano di tour passiamo alle previsioni del tempo oggi sulle marche vediamo c'è un tempo piuttosto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ci saranno un po di nubi sparse la sera sui rilievi e soprattutto sul pesarese le massime non oltrepasseranno gli 11 gradi le minime si attesteranno sui tre gradi detto questo diamo subito un'occhiata ai giornali a partire oggi dal Corriere Adriatico vediamo subito la pagina di Fano dove si evince un problema annoso quello delle buche nelle strade le strade disse strade anzi strade colabrodo come intitola oggi il giornale strade colabrodo e dimenticate e l'attacco di pollegioni dell'udc anche bevano tra le zone che da anni aspettano interventi bevano è la sede di una importante di un importante centro di riabilitazione di carattere psichiatrico quindi avrebbe bisogno per l'andirivieni di automezzi di una strada decente invece veramente è una strada ridotta ai minimi termini e poi ci sono anche problemi a Tombaccia a Cerbara soprattutto nel centro storico per quanto riguarda il passaggio dei mezzi dell'Ami e gli autisti denunciano la provincia ha investito solo sulla vallata del Foglia ma non sulla vallata del Metauro. I problemi sono segnalati in località Bevano dove secondo Stefano Pollegioni le sconnessioni la fanno da padrone la segnalazione dell'udc segue da pochi giorni l'annuncio del nuovo piano di asfaltature e la protesta di alcuni residenti a Tombaccia mentre i conducenti di Ami hanno segnalato condizioni difficili in particolare nelle vie Roma, 4 Novembre, Enaudi, Vittorio Veneto, Fanella, Via del Ponte e Viale Piceno. Le vie Tognolo e Campanella sono state inserite sul piano asfalti su nostra indicazione dicono gli autisti del Ami. Ciclo dell'Arzilla, si parla molto in questi tempi della ciclovia adriatica, della pista ciclabile Fano-Urbino e ora si comincia a parlare anche della ciclo Arzilla, una via protetta che dovrebbe unire Fano a Monbaroccio. Infatti ieri i sindaci seri e il sindaco Petrucci di Monbaroccio hanno organizzato una conferenza stampa per insistere su questa nuova realizzazione dove però Pesaro nicchia dicendo che non ha possibilità economiche per realizzare questa infrastruttura ma il progetto serve proprio per attirare finanziamenti, finanziamenti che potrebbero venire dalla regione, dallo Stato o anche dall'Europa. Ciclo Arzilla, pista Green, 6 stralci da 3,5 milioni. La ricostruzione dell'ex Carducci, ecco i fondi. La Corte dei Conti ha approvato il finanziamento e a gennaio la provincia potrà procedere con il progetto esecutivo. Il dirigente Giombi attesta ha la sua soddisfazione e dice però che il processo burocratico è eccessivamente tortuoso per realizzare il plezzo. Il plezzo sono stati stanziati 7 milioni di euro per ricostruire l'ex Carducci. 5 milioni provengono dallo Stato, 2 milioni provengono dal bilancio della provincia di Pesaro Urbino. Ed ora ho anche un'altra struttura, la pista Zengarini. Solo carenze, altro che complottismo. È una dichiarazione del Movimento 5 Stelle che evidenzia come gli errori fatti nel presentare la domanda del finanziamento, sono carenze progettuali, hanno impedito che giungessero a Fano 600 mila euro per realizzare questa infrastruttura. Passiamo alla Val Metauro dove c'è un articolo che riguarda Cartoceto. È una presa di posizione delle minoranze che evidenziano come nell'ambito territoriale e sociale, Cartoceto fa parte della TS7, il cui capofila è Fossombrone, la gestione associata non è stata rinnovata da un anno e quindi c'è un appello pubblico evidenziato da Insieme per Cartoceto, da questa lista civica, all'amministrazione comunale. Per quanto riguarda la Val Cesano, vediamo il territorio a sud di Fano, tra Fano e Mondolfo. Pericolo statale. Ser Filippi scrive all'ANAS. Servono segnaletica orizzontale e tutor. E si parla della statale adriatica sud che da Fano arriva fino a Marotta. Servono attraversamenti pedonali, servono anche dissuasori, servono dei dispositivi per eliminare, per ridurre la velocità degli autoveicoli che essendo quella strada un rettilineo piuttosto facile da percorrersi, le velocità aumentano. E poi vediamo ancora a Senigallia, incidente sul Ponte degli Angeli. Il Pilomat solleva un'auto in transito. Cos'è il Pilomat? Sono quei dissuasori che sorgono dal livello stradale. In questo caso ha alzato addirittura una Jeep. Il primo incidente su Ponte Angeli rompe in Consiglio Comunale a Senigallia dove non sono mancate le polemiche. Alle 16 di ieri un dissuasore che si stava alzando è rimasto incastrato sotto una Jeep che in quel momento si stava immettendo nel ponte e quindi ci sono polemiche per quanto riguarda questi dispositivi che dovrebbero così assicurare la sicurezza in questo tratto di strada. E partiamo ora da Pesaro dando un'occhiata ai giornali per quanto riguarda la sanità e vediamo che il Corriere Adriatico evidenzia quello che accade criticamente sul fronte sanitario. Bimbi, cluster familiari e secondi dose scadute, così si è arrivati al giallo. Nella fascia di età tra i 16 e i 10 anni e dagli 11 ai 13 l'incidenza ha ormai superato i 400 casi su 100.000 abitanti. Pompili dell'osservatorio epidemiologico dice vaccini oltre 5 mesi per 300.000 persone. C'è una variabile da tenere in considerazione. Innanzitutto diciamo che le Marche andranno in zona gialla a partire da lunedì prossimo senza aspettare il 27 dicembre, il che significa mascherine obbligatorie all'esterno superando così le ordinanze che i sindaci magari così alla spicciolata si apprestavano a firmare in prossimità delle feste natalizie. Ebbene la variabile da tenere in considerazione invece è quella della popolazione con la seconda dose che ha superato i sei mesi dalla somministrazione e quindi dovrebbe fare la terza dose. Si tratta di una platea di 300.000 marchigiani che dovrebbero appunto rinnovare la vaccinazione. E qui abbiamo le sempre significative tabelle che il Corriere Adriatico pubblica per evidenziare la situazione. In questo caso il tasso di incidenza su 100.000 abitanti è suddiviso per fasce d'età a partire dai 0, 2 anni fino ad arrivare ai più 90. E su queste due pagine invece abbiamo tutto quello che si può fare e non si può fare con il super green pass, con il green pass normale e senza il green pass. Ci sono tutti i casi, una casistica veramente completa che il giornale pubblica e diamo un'occhiata invece che cosa si può fare con solo il green pass. Ovvero si possono utilizzare taxi ed autonoleggio. Si può entrare nei luoghi di lavoro, si può entrare nei negozi, nei centri commerciali, si può consumare al bancone del bar, si può mangiare al ristorante però all'aperto, si può alloggiare nelle strutture ricettive, cioè negli alberghi, si può svolgere attività sportiva all'aperto e al chiuso, si può partecipare a congressi, a convegni all'aperto e al chiuso, si può partecipare alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose. Ovviamente si può andare anche in chiesa. Io vi ho letto qualche caso su che cosa si può fare con il green pass, ma ovviamente è ugualmente interessante leggere che cosa si può fare con il super green pass e quello che si può fare senza il green pass. Ed ora giriamo le pagine per arrivare a Pesaro. Dal Comune niente aumenti e ritocchi attributi e imposte. Si parla del bilancio che il Consiglio Comunale si appresta ad esaminare e ad approvare lunedì prossimo nel capoluogo. L'assessore Pozzi, noi attenti anche a detassare nuove attività e alle fasce di esenzione. Dal Comune comunque niente aumenti o ritocchi attributi e imposte. Il fondo anticrisi si attesta sui 300 mila euro e appunto da lunedì il bilancio va di previsione e al voto del Consiglio. Consiglio concluso il restyling. Dal gennaio si torna in presenza una rivoluzione high tech nel Consiglio Comunale di Pesaro per la sala. L'annuncio dato dal Presidente del Consiglio Comunale, Perugini. Mamma, guarda quanto mi diverto. È una dichiarazione che insomma demotiva la paura, il timore di una vaccinazione da parte dei bambini. A Muraglia sono stati vaccinati i primi 90 bambini. Buon debutto del Lab per la seduta dedicata ai piccoli, tra i genitori anche l'assessore Monotti. Vediamo anche qui la figura dei medici clown, quelli che sdrammatizzano un po' il problema, la vaccinazione per i bambini, dando loro il sorriso e facendo così spostare il pensiero invece che al picco a delle fantasie giocose e sorridenti. Via Castelfidardo. Via Castelfidardo è una delle vie più antiche ai centrali di Pesaro. Ora, grazie ad un progetto pilota, si potrà rilanciare anche l'attività commerciale. Infatti la via diventerà pedonale dalle 17 alle 22 a partire da oggi. La Confartigianato dichiara in primavera ogni terzo sabato del mese e quindi ci sarà questo provvedimento. Sarà completamente pedonalizzata dalle 17 alle 22 anche se è già ZTL all'interno del centro storico ma oggi il dispositivo sarà ulteriormente rafforzato. Neanche chi ha il permesso potrà accedervi all'interno della fascia oraria prevista e dovrà transitare su altre strade. Quindi dalle 17 alle 22 si va solo a piedi. 100 firme per intitolare a norma una strada. È una richiesta che 100 persone hanno evidenziato all'amministrazione comunale per intitolare una strada a norma Cossetto. La donna che fu uccisa dai titini e lo sappiamo durante quello che è accaduto in Istria al termine della seconda guerra mondiale. Una proposta che era già stata bocciata dall'amministrazione comunale. Ora ci si riprova e se è soprattutto Daniele Malandrino dei fratelli d'Italia che si fa portavoce di questa iniziativa. Ed ora veniamo un po' alla cronaca e vediamo che ci sono ancora furti a Pesaro con la scusa di vedere l'appartamento rubano ori e gioielli ad anziani coniugi. Stupisce un po' la fiducia che la gente nutre ancora nel prossimo nonostante i grandi avvertimenti, i continui avvertimenti che le forze dell'ordine pubblicano dicendo fate attenzione non fate entrare in casa vostra degli estrani. Ebbene non ottemperando a questa disposizione una coppia si è fidata. C'erano due signore che volevano comprare un appartamento all'interno di uno stabile, hanno visto una coppia e hanno detto mi fate vedere il vostro appartamento così noi ci rendiamo conto di quello che andiamo a comprare. La coppia ha accettato, ha fatto entrare questi due signori in casa, una ha distratto i padroni di casa, quell'altra ha fatto una rapida uscita in camera da letto e qui ha rubato ori e gioielli. Un altro furto invece si è verificato in un bar, tabacchi e a trebbio della sconfitta nei pressi di Candelara. Qui i ladri ben attrezzati hanno utilizzato un flessibile per poter tagliare la porta posteriore e hanno preso quante più sigarette potevano per un valore di 5.000 euro e poi altri prodotti alimentari come salumi e altro per un valore di 1.000 euro. E ora indaga la polizia. Un insospettabile pusher di riferimento nascondeva coca nei barattoli del riso. Si tratta di un trentenne albanese residente da tempo nella zona di Vallefoglia che è stato sorpreso dalla squadra mobile e aveva una clientela affidata da Pesaro appunto a Vallefoglia. E poi vediamo subito la notizia di Urbino. Ultraleggero a terra e si ribalta, paura a Ca' Virginia. Illeso un 71enne pilota Urbinate. La causa? Un calo di potenza provocato dal freddo. Il velivolo è dovuto scendere su un campo vicino all'aviosuperficie. Sul posto i carabinieri 118 e vigili. Comunque il pilota se l'è cavata a buon mercato ma qui vediamo il velivolo e il campo arato su cui è atterrato. Insomma se l'è vista brutta. Diamo un'occhiata ora invece al resto del Carlino a partire dalla pagina di Fano dove vediamo che per quanto riguarda il Capodanno non ci sarà la festa in piazza come gli anni. Non c'è stato nemmeno nel 2020 e non ci sarà nel 2021. Un Capodanno senza brindisi in piazza non si ballerà ma in città il turismo andrà forte alla fine dell'anno. Sono le previsioni dell'assessore al turismo Etienne Lucarelli. Tantissime le presenze in città. Al lavoro sulla ciclovia ma Pesaro dice no è il titolo che riguarda l'incontro di ieri tra i sindaci Petrucci e Seri, il sindaco di Monbaroccio e il sindaco di Fano. Tatuaggi arrivano e divieti ma non mogliamo i colori. Si parla di un problema questo nazionale. Ci sono disposizioni che limitano l'uso di certi colori per i tatuaggi e una pratica questa che si diffonde sempre di più ma occorre usare dei materiali che non danneggiano la salute. E poi un articolo per quanto riguarda la pista d'atletica Zengarini. Il Comune non demorde investimenti su un manto sintetico anche se ha perso i finanziamenti dallo Stato per, come abbiamo visto prima, per incongruenze progettuali, per carenze progettuali. Il Comune investe del suo per così realizzare la pista per la tribuna, si penserà in seguito. 6 milioni di fondi per le micro imprese e quanto ha detto l'assessore alle realtà produttive della Regione Marche e vicepresidente della Regione Mirico Carloni durante il convegno sull'economia marchigiana che si è svolto nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano. Un annuncio per quanto riguarda l'economia che cresce dell'8,5 per cento dopo il crollo del 2020, quindi un'economia in forte ripresa. Nuova stazione, ok, e ora l'arretramento della ferrovia. Si parla ancora di quanto è stato fatto per valorizzare la stazione ferroviaria di Marotta. Ora è il turno del capogruppo di minoranza Anteo Bonaccorsi che interviene dopo inaugurazione dei lavori e prefigura l'arretramento della ferrovia. Un provvedimento che è auspicato un po' da tutte le città che sono sulla costa dove la ferrovia preclude molto del paesaggio e anche della viabilità interna. A Urbino vediamo che la Benelli Armi regala 100 milioni al territorio. Il mercato infatti è in forte ascesa per l'azienda di armi urbinate. Parla il direttore Paolo Viti. L'indotto è notevole. Pensate che la Benelli Armi di Urbino si avvicina alla conclusione del presente anno con un record di vendite oltre ogni aspettativa. Per il 2021 si annuncia un fatturato di 170 milioni di euro. È un grande aumento della produzione da 170 mila a 300 mila armi prodotte. E qui non vado più avanti. Vediamo ora invece sulla pagina di Pesaro che cosa dice il resto del Carlino. Zona gialla, mascherina obbligatoria all'aperto. Ricoveri allarmano i numeri di Pesaro. È stato ufficializzato ormai il declassamento della regione da lunedì ma comporterà una sola regola in più rispetto alla zona bianca. Abbiamo detto è quello della mascherina. Intanto i numeri del San Salvatore sono i più alti. Sono 77 i ricoverati. Restano solo otto letti liberi. A breve altri saranno attivati a muraglia. E qui sono tutti i provvedimenti che dovranno un po' cercare di limitare il passaggio tra altri colori più problematici della nostra regione. Una pagina dedicata alla vaccinazione dei più piccoli. Li vediamo qui sorridenti nel fare la vaccinazione. Nascondono bene qualche timore per quanto riguarda il picco ma insomma tutti si comportano nel migliore dei modi. Piazze vuote a Capodanno. Rischioso fare le feste. I comuni seguono le indicazioni del prefetto. Nessuna iniziativa né a Pesaro né a Fano né a Urbino. E Vimini a Pesaro dice che la situazione è tornata a essere molto molto delicata. Ed ora vediamo un problema di un insegnante. Di un insegnante fanese che insegna a Ferminiano. Scuola. La burocrazia sale in cattedra. Io prof senza stipendio da quattro mesi. E l'incredibile vicenda di Laura Paterniani a 39 anni. Dicono che sia colpa di un codice che non viene letto dal sistema informatico. In questo caso non si tratta del green pass, del vaccino o insomma di essere positivi o negativi. Si tratta di un problema burocratico. C'è un sistema che non legge un numero e questa signora è senza stipendio da quattro mesi. Il che vuol dire che torna ad essere a carico nonostante la sua età, nonostante la sua professionalità. La signora ha 39 anni, insegna ed è di ruolo, torna a carico dei genitori. Insomma problemi burocratici. Abbiamo visti anche nei giorni scorsi che creano molti molti problemi. I 5 stelle entrano in maggioranza a Pesaro. L'intesa col PD è quasi fatta. Ieri c'è stato un incontro con il sindaco. Lunedì i grillini potrebbero votare sì al bilancio. E sul rimpasto di giunta circola il nome di Luca Pandolfi come nuovo assessore. I pentastellati a Pesaro già esprimono un componente in giunta dal febbraio 2020. E Francesca Frenquellucci che quando ha deciso di passare in maggioranza è stata addirittura estromessa dal 5 stelle. Poi quando è arrivato Conte è stata di nuovo reintrodotta. Giriamo ancora le pagine e vediamo qui i furti che sono stati commessi. Vediamo una fotografia piuttosto emblematica del disastro che i ladri hanno compiuto nel negozio vicino a Candelara dove hanno rubato sigarette, salumi, insomma tutto quello che hanno potuto per un valore di 5.000 euro. Sono in corso indagini della polizia. Volevo farvi vedere la foto che è piuttosto significativa del disastro che hanno compiuto. Ultraleggero a terra e si ribalta. Qui vediamo la foto dell'ultraleggero che si è ribaltato, illeso il pilota Pier Giorgio Tarantini di 71 anni che ha rifiutato il ricovero evitata per un soffio la tragedia. E poi siamo nella pagina di Fano che abbiamo già visto per cui possiamo passare tranquillamente allo sport. Vediamo come per quanto riguarda la vis che si appresta a affrontare l'Ancona nel derby, un derby definito maschio e ostile. Abbiamo delle dichiarazioni di Banchini che istruisce la squadra. Il tecnico sulla partita di domani, inizierà le 17.30 ad Ancona, servirà tanta intensità, ha detto. Non dobbiamo subire l'ambiente che è un tutt'uno con la squadra avversaria e quindi attenzione al tifo avverso. Cerchiamo di tenere nervi saldi e di giocare con la testa. quello che dice Banchini, che lo vediamo qui come per dire attenzione, calma, non facciamo giri di testa. Il Fano invece cerca di rinforzare la sua squadra, ha preso variale, adesso il Fano dovrebbe avere anche più brio, più fantasia nel gioco. Si tratta di un esterno di 22 anni ma con un'esperienza in serie D che firma un contratto biennale disponibile insieme a Carcalis per il match con il Fiuggi. Si tratta dell'atletico Terme-Fiuggi che ha anche problemi con la guardia di finanza ma ora il pensiero dei giocatori Granata è concentrato appunto sulla partita che dovranno vincere a tutti i costi. Era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento per la rassegna stampa di lunedì prossimo alle ore 7 e questa sera il notiziario di Fano TV alle ore 20 e 30. Buona giornata e buon weekend.